Ciao e benvenuto in Student for a Day, un'esperienza virtuale che ti permetterà di essere studente universitario per un giorno, di entrare in contatto diretto col mondo accademico, magari di scoprire passioni nuove, o se già hai idee chiare, capire bene se chiedi e l'Università d'Annunzio sono il posto giusto per te. Purtroppo quest'anno l'emergenza sanitaria ci impedisce di ospitarti fisicamente nelle nostre strutture. Quindi per garantirti totale sicurezza abbiamo pensato di proporti una soluzione alternativa, girata interamente da noi con video fatti in casa nei giorni scorsi, così da permetterti di entrare nel vivo della realtà universitaria, farti conoscere la bellezza del nostro percorso di studi con un semplice click del mouse. Pronto? Bene, ora siamo diventati ufficialmente colleghi universitari. In ambito accademico io ho qualche annetto di esperienza in più rispetto a te, giusto qualcuno eh? Quindi potrò aiutarti nell'affrontare questa avventura virtuale. Davanti a te si apre un percorso, pensato appositamente per fornirti tutti gli strumenti utili per decidere quale direzione dare alla tua vita. Avrai modo di ascoltare direttamente dalla voce di noi studenti e dei professori quella che è l'offerta formativa del nostro dipartimento, quali sono i corsi fluidi, persino di assistere a vere e proprie lezioni universitarie. Ma non temere perché oltre al dovere c'è anche il piacere e quindi ti invitiamo a scaricare i nostri gadget di dipartimento e a giocare con noi in alcuni laboratori pensati proprio per divertirci un po' insieme. E poi potrai accedere a video in cui studenti come me e te raccontano la loro esperienza personale, com'è la vita studentesca, com'è chi è tutta una città studentesca. E se dovessi avere altre curiosità o dubbi, potrai rivolgerti ad un servizio di video chat online, prenotarti e farci tutte le domande che vorrai in incontri live. Infine cercheremo di guardare ancora più lontano, verso gli orizzonti internazionali e le tante prospettive di lavoro, insomma tutte quelle strade che a partire dai nostri studi e da questo campus si aprono verso il futuro. Se vuoi, quando vuoi, iniziamo! Grazie!